ciao a tutti io sono francesca ho conosciuto totem grazie a lucia che ormai qualche anno fa mi ha invitato al loro corso di formazione e è scattato subito un feeling speciale perché totem è davvero un posto speciale fatto di persone speciali e per me ogni occasione di fare formazione con loro è un dono prezioso perché sento di lavorare su me stessa e ricercare poter portare la mia autenticità con la fiducia di essere accolta ascoltata e protetta le mie tre parole sono autenticità profondità e ascolto e vi auguro tantissimi tantissimi auguri di buon compleanno sperando di trovarci presto in un cerchio tutti insieme ciao